Cighera mi hanno detto che aveva bisogno di dirmi qualcosa Ripensando a quel tecnico dell'Ener Quello della villa di Arcore dei 20 MW Mi ricordano un po' quei tempi dei suicidi assistiti Assistiti? Post Strage di Ustica Addirittura? Sì Perché? Si ricorda Umberto quante suicidi assistiti in quel periodo Anche a mani pulite? Gente impiccata Impiccata? Impiccata Impiccata Scusi Impiccata sì o impiccata? Impiccata Trovata morta in casa impiccata al termosifone Impiccata A due altezza di 50 cm da terra Oppure con il sacchetto intorno alla testa con un nodo Sì Oppure con un caffè che va di traverso L'ultimo caffè di Sindona Si ricorda? Che è di naso di traverso Esatto Eh sì Potrebbero ricordare quel tipo di incidenti È un po' che non ne capitano Strano La moglie non si si accorta In che senso? Non so Non si è accorta di nulla la moglie? Cioè si è svegliata dopo il colpo E ha chiesto spiegazione perché il marito fosse morto? Esatto Questa non la sapevo Lei è illesa Ma dove sedeva? Su un'altra macchina immagino Su quella? Su quella Sulla stessa Cosa ne pensa del cruscotto illeso anche? No Una buona marca l'auto Che marca era? È un Volkswagen Volkswagen Una buona marca Finita poi nella buffera per un'altra storia Però lo fanno tutti ma non lo si dice Non sono gli unici insomma A aver fatto quella cosa sul gas O le rilevazioni E quindi no Ma sono ancora sui suicidi? Voleva dirmi qualcos'altro? Sente aria ancora di... No 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 Non è più per io Ma quindi E va su Parisi? Perché io ho sentito che Mentre riprendevano la Pascale Che piangeva alla finestra Il giorno dell'operazione di Silvio Qualche maligno ha detto Che è stato un fotomontaggio Praticamente il volto era della Pascale Ma le lacrime di Parisi Perché se fosse successo qualcosa Al creatore di Parisi Come ogni opera d'arte L'opera d'arte avrebbe acquisito Un valore immenso Rispetto a 5 minuti prima O sbaglio O sbaglio Parleremo domenica sera No non mi può lasciare così Mi diciamo Parleremo domenica sera Di questa cosa Secondo lei farà piovere Il Ministero della Difesa Con la storia delle scie chimiche E Klaus Seeding Per far andare a votare la gente Assolutamente Quindi sabato schifo Domenica schifo Ma poi si apre verso sera Su Milano schifo Su ogni città Ragazzi evitate ogni città Dove si vota per il ballottaggio Perché farà schifo il weekend Giusto? Esatto Perfetto Buona serata a tutti